Questo bel passo! Uno, via! Uno, via! Criol completo! Oh yeah! L'uomo di punta! Guardate che taglio di capelli! Ma tu hai pagato? Super clean! Ho pagato! Wow! Usui! Weila! Ragazzi, buongiorno! Siamo di nuovo via oggi a San Martino, al Tognola per un bel allenamento di squadra siamo qui in 7-8 del team mentre Jacopo e un paio di ragazzi sono a Sciladri in questo weekend noi ce ne vedremo un po' qua a San Martino in questo weekend buco tra le gare che abbiamo in programma e niente, un po' di riding ole! On top! Wow! Yeah! Il riscaldamento è fatto! Guarda che vista! Si è da Criol! Guarda che belli! Guarda che guai! Guarda che guai! Guarda che guai! Guarda che guai! vediamo adesso! Perciò prima partita si passi in mezzo e per fortuna i due alberi va a non servire entri lì C'è molto bello Stop Non, 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 non C'è successo ... Passiamo giusto perchè voglio vedere un attimo anche le curve curva, con i panettoni spostati per curva all'ultimo beh, vediamo lì sotto al salto e partiamo qua filo alla fila ma dopo ci fermiamo tutti assieme lì dopo ragazzi abbiamo fatto un paio di giri abbiamo visto un po' le linee e quant'altro oh yeah adesso abbiamo diviso la pista in 3-4 settori ci sarà Marco che ci prenderà i tempi e vediamo un po' di timing un po' di riflessioni sulle linee vediamo un po' cosa ne viene fuori ok raghi siamo pronti questo primo live timing 10 secondi e allora? Trono? si dai 1 second 15 parte lui dopo facciamo la pausa 10 5 2 1 via 2 2 5 1 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 bello comunque andiamo giù al secondo intertempo 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 eeeh 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 wow 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ah no. Ah no. Oh! Oh! Che hai fatto? Questo era un bel trio. Ancora! Questo bel passo! Che è gasato! Oh! 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 Grazie a tutti.